Non mi sembra che sia adesso l'acqua, non è che piova, è normale, è normale novembre, è così. Il nostro problema è ovvio che sono i lavori che hanno eseguito sulla strada, lo stradone che la stradale, è chiaro. In quattro ore è impossibile che noi ci allaghiamo qua, è ovvio, e vediamo tutti quanti che l'acqua arriva da lì. Cioè è impossibile che in quattro ore ci allaghiamo, è ovvio, no? Questi sono i lavori, i disastri idrogeologici, la TAV, e tutte le questioni che ci sono qua, evidenti. Ma chi te la compra ormai? Purtroppo viviamo così, per fare i loro lavori, loro fanno i loro interessi e noi siamo nella CAV, siamo tutti allagati, non mi sembra giusto questo qua, no? Miriam dice, la lasciamo perché se la prenda la barca io vado in attesa, capito? Certo, abbiamo fatto mille segnalazioni, lei mera, mille segnalazioni, sono sempre venute qua a fare delle grandi fotografie e non hanno mai fatto niente, mai fatto niente. Grazie.